Non deve mai invecchiare, mai essere maleducata, mai metterti in mostra, mai essere egoista, mai cadere, mai fallire, mai mostrare paura, mai essere sopra le righe. Donne vestite di sole è uno spettacolo che affronta il macro tema del femminile. Noi lo faremo cercando di rappresentare le diverse sfaccettature dell'animo intimo delle donne. Ma è anche nostra, quindi puntano solo alla nostra parte di luna? Sì, a volte quando raggiungono il bersaglio più di metà cade. Allora la luna diventa mezza luna, a volte sparisce completamente. Non è un compito semplice ma speriamo di riuscirci, insomma portiamo in scena tantissime voci di donne che ci sono più o meno vicine, tantissime voci di donne anche molto distanti da noi ma che in qualche modo, secondo me anche confrontandomi con tante altre donne, comunque ci riguardano e comunque ci parlano. Quando partiremo mamma? Partire per dove? Dove la luna non cade? Dentro di me ero libera, la cercavo ancora, leggevo la sua fede e poi... La stazione numero 9 colorava cieli, nebbiosi e fotografie di paura mentre un pendolo... La mia ultima stazione è la numero 14. La mia ultima stazione è la numero 14. La mia ultima stazione è la numero 14.